Questa amministrazione aveva preso un serio impegno con gli alunni del complesso scolastico di via Capo Sperone. Serviva a realizzare un marciapiede per tutta la lunghezza della strada. Lo abbiamo realizzato, adesso stiamo completando le rifiniture. Verrà ulteriormente realizzato attraverso la tubatura drenante e la raccolta delle acque. E questo riteniamo un intervento molto importante che il Decimo Municipio ha realizzato mantenendo un impegno importante preso con tutti i ragazzi. Ecco, questo vorrei anche ringraziare con l'occasione tutti i tecnici, tutti coloro che stanno lavorando e ci stanno supportando per poter vedere realizzato il nostro programma. Grazie per la visione!